Buongiorno bambini, oggi impariamo che cosa significa fare il quadruplo Calcolare il quadruplo significa moltiplicare per 4 Un uccellino moltiplicato 4 volte mi dà 4 uccellini, 1 per 4 uguale 4 Abbiamo due easter bunny, due coniglietti pasquali Ogni coniglietto viene ripetuto 4 volte, perciò scrivo 2 per 4 uguale 8 Se abbiamo un paio di uova, cioè due uova, basterà fare 2 per 4 uguale 8 Ci sono tre fiori, ogni fiore viene ripetuto 4 volte, si scrive 3 per 4 uguale 12 Ci sono quattro api, ogni api viene ripetuta 4 volte, si scrive 4 per 4 uguale 16 Ricordati che fare il quadruplo significa che una quantità è ripetuta 4 volte Buon lavoro!